Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo al secondo appuntamento di Un altro modo per dirlo. Questo è un progetto pensato e realizzato dalla Commissione Pari Opportunità di ACI Donne del Triuli Venezia Giulia e della Lombardia. L'ACI è l'associazione che riunisce le centrali cooperative, COF cooperative, Lega delle Cooperative e AGC e ha come associate le imprese in forma cooperativa, imprese che proprio per le loro peculiarità prestano molta attenzione ai soci e alle socie, visto che sono le persone che formano proprio le società. Proprio in quest'ottica abbiamo pensato di sviluppare un percorso che si focalizza sullo strumento linguaggio, che è il mezzo attraverso il quale entriamo in comunicazione con il mondo, a volte costruendo ponti e a volte erigendo barriere. Il primo appuntamento ha visto come protagonista la sociolinguista Bera Gheno, con la quale abbiamo ragionato sugli effetti che possono avere le parole, possono essere sia proiettile che carette. Utilizzare le parole in maniera consapevole che implica una competenza che abbiamo tutti, ma che possiamo allenare per migliorare. Potete rivedere l'incontro, per chi l'ha perso, sul canale YouTube di LegaCop FWG e sulle pagine Facebook di LegaCop FIULI Venezia Giulia e Lombardia e COF cooperative FIULI Venezia Giulia e Lombardia. Oggi parliamo di leadership e gioco di squadra con la nostra ospite che sarà Maurizia Cacciatori, una delle più grandi campionesse della pallavolo italiana, ex capitana della nazionale italiana di pallavolo e formatrice team building. Con Maurizia utilizzeremo la metafora sportiva per raccontare la vita, la gestione dello stress con le sconfitte e le vittorie, cioè essere leader. Assieme a lei ci saranno Enrichetta Zamò per ACI FIULI Venezia Giulia e Emiliana Brognoli per ACI Lombardia. A chi sta seguendo chiediamo di scrivere in chat per porre le proprie domande e adesso, prima di iniziare, vi proponiamo un tuffo nel mondo di Maurizia con questo breve video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. È un piacere enorme fare squadra con voi. Scusate ma io mi emoziono sempre. Tutte le volte che vedo questo video è qualcosa che mi riporta ad un percorso della mia vita che mi ha fatto crescere non soltanto dal punto di vista delle vittorie, perché nella mia carriera io ho vinto davvero tanto, ho vinto tantissimi titoli, ma perché quel percorso è stato un percorso è stato un percorso condiviso, un percorso di crescita, un percorso di squadra, di collaborazione, di cooperazione, di empatia. E quindi tutte le volte che vedo le immagini penso ogni volta a un'azione differente perché si vede proprio un percorso da quando sono piccola, molto giovane, a quando sono poi arrivata alle Olimpiadi. La mia storia è una storia sicuramente conosciuta a tanti di sport, di pallavolo. Io sono di Carrara e fin da piccola avevo questa passione incredibile per il volley. E ricordo che quando i miei genitori mi hanno proposto varie tipologie di sport, io ho sempre prediletto il fatto di stare insieme alle persone. Sono la prima di tre figli e ho già l'età di tre anni, siccome siamo tutti a schiera, ero già una piccola capitana. Perché? Perché quando succedeva qualcosa in casa la responsabilità era la mia. Quindi quando ho iniziato a giocare a pallavolo ero sicuramente una ragazzina autodidatta perché prima che i miei genitori decidessero di scrivermi c'è passato tanto tempo. Io ho fatto atletica, ho fatto tennis, ho fatto ginnastica artistica, però non sentivo quel cuore che mi batteva così tanto come quando sono entrata in una palestra di pallavolo, che poi era una palestra di una scuola, una palestra non di quelle che poi nel futuro avrei vissuto, palestre olimpiche, palestre dove si giocavano Champions League, palestre straordinarie, meravigliosamente curate. Era una palestra con pochi dettagli, ma con qualcosa di importante, una rete e tanti palloni. E io in quell'ambito sono cresciuta. Sono diventata grande subito perché all'età di 15 anni ho avuto la possibilità di far parte di un team di serie A. Quindi parto sempre dal presupposto che ero sicuramente un talento, però c'è grande distinzione tra essere un talento e capire cosa vuol dire avere un talento. Il talento è un dono, è un regalo che riceviamo, ma il sacrificio è una scelta. E io ho capito ben presto che se volevo crescere, volevo diventare una buona giocatrice, dovevo mettere da parte un po' del mio talento per investire in tutto quello che c'era intorno. O meglio, nel team, nella squadra, nelle persone, negli allenatori, in tutte le persone che facevano parte del percorso che avrei fatto insieme. Ora, io ho un dettaglio particolare della mia vita. In casa mia non c'è né una coppa, né una medaglia, né un trofeo. E i miei figli, che sono due e sono ancora molto piccoli perché hanno 10-9 anni, hanno dei forti dubbi che io abbia giocato a pallavolo. Infatti mi dicono, mamma, ma te sei convinta? Perché non vediamo niente. E il fatto che io non abbia mai esposto nulla non significa che io non abbia dato valore a quelle coppe, ma significa che io fondamentalmente ho dato più valore al senso di appartenenza, che spesso e volentieri durante tutti i miei speech dico che vale molto di più di ogni medaglia al collo. È così. Il senso di appartenenza vale più di ogni medaglia che io ho indossato, ogni coppa che io ho alzato. Tra l'altro sono stata anche la capitana per tanti anni della nazionale, quindi vi assicuro che di coppe ne ho alzate veramente tante. Ma il grande dono che lo sport mi ha dato è stato proprio il valore di allenare l'empatia, allenare il coraggio, allenare il fatto di mettersi in gioco e di prendersi le responsabilità nei momenti straordinari, ma anche nei momenti difficili. La capacità anche di proteggere la propria squadra e la capacità anche di diventare una leader. Io ricordo che quando feci la mia prima valigia, avevo poco più di 15 anni, in quella valigia c'erano tanti sogni, ma fondamentalmente c'erano tante ginocchiere, tante scarpe da pallavolo, tante tute, tante maglie. E io ricordo quel viaggio che feci da Carrara, io sono toscana di Carrara, da Carrara fino a Perugia pensando che cosa avrei dovuto allenare di più per essere e diventare una buona leader. Perché fin da piccola mi dicevano sempre devi essere un buon leader, devi essere un leader, devi allenare la leadership. E per me era diventato qualcosa di inarrivabile. Oggi posso dire che il vero leader è semplicemente una persona che dà un esempio, è una persona che costruisce, non distrugge, è una persona che elogia in pubblico e rimprovera in privato, è una persona che sa anticipare. Anticipare nel senso che capisce quando possono verificarsi delle difficoltà. Io questo l'ho allenato perché la pallavolo è un gioco di squadra, ma la palla è in alto e tu puoi allenare un sacco di schemi, ma all'ultimo secondo il tuo avversario può cambiare quello schema e quindi devi essere pronto a reagire, a proteggere la tua squadra e a cambiare, a cambiare immediatamente. Quando sono arrivata in Serie A ero la più giovane ed ero anche quella che aveva vinto meno di tutte perché le mie compagne erano già tutte atlete che avevano vinto e convinto. Erano atlete che avevano vinto Olimpiadi, erano atlete che avevano già giocato diverse competizioni all'altissimo livello e io arrivavo da una realtà molto provinciale e il titolo forse più importante era il famoso trofeo di Topolino che si faceva nelle giovanili e io di cui io andavo particolarmente orgogliosa, ma guardavo gli occhi delle mie compagne che mi erano un pochino imbarazzati, dicevano come il trofeo di Topolino, te devi diventare una buona giocatrice, ti devi mettere in gioco, no? E quindi io ho capito subito che la prima cosa che dovevo fare era mettermi in funzione del mio team. Il mio ruolo non era quello della palleggiatrice, io nasco come schiacciatrice, quindi per chi non conoscesse benissimo i ruoli nella palla a volo, la schiacciatrice è la giocatrice risolutrice, no? Che conclude l'azione, ecco lei che prende la palla all'ultimo della fase del gioco e con una schiacciata, un pallonetto o comunque un attacco chiude e fa punto. Quindi io avevo una visione molto individuale e cosa succede? Quando io arrivo in Serie A, il mio allenatore decide subito di cambiarmi il ruolo. Quindi per me è crollato immediatamente un mondo, no? Perché pensavo di essere fortissima, avevo 15 anni, era una bimba e il fatto che lui mi togliesse i miei punti di riferimento fece sì che perdessi molta fiducia in me stessa. Però la cosa interessante è stata proprio il fatto che questo allenatore mi fece capire che ogni cambiamento, ogni cambiamento poteva essere un'opportunità. E quindi io mi misi all'inizio con un po' di fatica, perché non ero proprio così tanto convinta, a palleggiare. E iniziai a capire il mondo della palleggiatrice, che è un altro ruolo, completamente diverso dalla schiacciatrice, perché la schiacciatrice chiude, ma la palleggiatrice costruisce. Ma non costruisce soltanto per un atleta, costruisce per tutta la squadra e costruisce anche per chi non è in quel momento in campo, o meglio la panchina. Quindi dare valore ad ogni giocatrice, da quella più timida, da quella più estroversa, da quella straniera, da quella che non sa dire una parola in italiano, perché comunque noi abbiamo giocato ovviamente con tantissime giocatrici che arrivavano da tutto il mondo e quindi la capacità di mettermi velocemente a servizio di tutta la mia squadra. Dico sempre che nella vita tutto è allenabile e che i primi a porci limiti siamo proprio noi. E io questo l'ho imparato proprio sulla mia pelle, perché sinceramente il ruolo di palleggiatrice mi pesava molto, perché era davvero molto di responsabilità. Ed ero io la più giovane con la squadra più grande, con giocatrici davvero con grandi titoli. Quindi dovevo lavorare in doppio, ma non mi sono mai tirata indietro. Ogni giorno avevo i miei 400 palleggi da fare e io li facevo tutti i giorni, 400 palleggi. E io davo valore sia al primo che all'ultimo palleggio, perché ho sempre pensato che ogni allenamento buttato via era un essere lontano dal proprio obiettivo e quindi a volte con tanta fatica, perché erano allenamenti ripetitivi, continui, non è che ci fosse grande varietà. Rimanevo ferma lì e iniziavo dal primo al secondo fino arrivare al quattrocentesimo. E questa è stata una sorta di grande crescita. La pallavolo è un gioco di squadra per eccellenza, la pallavolo è un gioco dove la palla rimane in aria e se non hai completa fiducia nei confronti delle tue compagne e anche la consapevolezza che insieme si può risolvere ogni situazione, tutto crolla. C'è una parola straordinaria che io sottolineo sempre durante le mie convention, nei miei speech, mia. Nella pallavolo quando la palla è in alto ci sono giocatrici che hanno la consapevolezza di dover chiamare la palla e la chiamano dicendo mia. Non sentirete mai dire durante un match la palla è tua o la palla è sua. No, la palla è mia perché con quel mia, una parola di tre paroline, io faccio capire che ci sono, ma non ci sono solo per me, ci sono per tutta la mia squadra. Quindi il mia è la responsabilità che abbiamo noi in ambito sportivo ma anche in ambito aziendale di far capire che noi ci siamo. Ci siamo per quella maglia che indossiamo, che per me è stata per tanti anni la maglia della nazionale, ma per voi la maglia per chi ha scelto voi, no? Che vuole tanto, aspetta sempre tanto e che non va mai deluso perché chi sceglie noi ha puntato su di noi e il nostro percorso è un percorso che può essere semplice ma è un percorso anche di grande salita e anche di grandi tonfi. Io ho vinto tantissimo nella mia carriera ma ho perso anche tanto, ho perso tantissime finali, ma spesso e volentieri mi chiedo chi è il vero vincente? Io credo che il vero vincente sia colui che trova un giusto equilibrio tra esaltanti vittorie e cocenti sconfitte e questo cosa significa? Che nei momenti in cui le cose arrivano e i risultati sono straordinari bisogna gioire e bisogna capire come squadra il valore di quella vittoria, ma il giorno dopo porsi subito l'obiettivo successivo e allo stesso tempo quando le cose non arrivano, quando le sconfitte sono cocenti, non abbattersi troppo ma trovare quell'equilibrio per capire che domani è un altro giorno per affrontarlo con un atteggiamento completamente diverso. Noi siamo i migliori allenatori di noi stessi e continuo a ripetere che i limiti li poniamo sempre ed esclusivamente noi. Detto questo il mio percorso è stato davvero straordinario, però la nazionale femminile è stata una nazionale che ha avuto una storia particolare perché all'inizio non riuscivamo mai a portare a casa risultati, giocavamo in tutto il mondo e arrivavamo sempre molto allenate, molto preparate, ma di fronte agli Stati Uniti, di fronte alla Cina, di fronte al Giappone non riuscivamo mai a portare a casa risultati importanti e perdevamo sempre. Quindi era anche una situazione di grandissima frustrazione e questa frustrazione è durata per diversi anni e devo dire che non è stato facile perché la vita di una sportiva è molto particolare perché per sei mesi rimani in un club ma poi dopo il sesto mese prendi e parti e indossi la maglia della nazionale e fai grandi ritiri, grandi sacrifici. Io ho bruciato le mie tappe ad usare le scienziali molto velocemente, sono diventata grande subito perché quando entri in un club come quando entri in un club non interessa a nessuno se hai 15 anni, se non sei particolarmente preparata, se non hai esperienza, devi portare i risultati subito. Io questo l'ho capito immediatamente mettendomi in proprio servizio. Quello che mancava a questa nazionale era proprio la comunicazione, il fatto di mettersi in gioco. Eravamo tutte delle battitrici singole che ognuno faceva la cosa giusta ma esclusivamente per sé, ma non per pur egoismo, ma per mancanza di mentalità. E quindi quando nel nostro team arrivò Giulio Velasco che è stato uno tra i più grandi allenatori che io ho avuto, ho la fortuna di avere nel mio percorso sportivo, ci siamo tutte messe in gioco. Perché? Perché lui arrivò e cambiò completamente tutto. Quello che lui voleva era assolutamente una completa fiducia, collaborazione ed empatia nei confronti di l'uno e nei confronti dell'altra. E quindi cosa succedeva? Quando una palla cadeva in mezzo ad una giocatrice, a due giocatrici e nessuna dei due diceva nulla e la palla veniva presa e accompagnata fuori dal campo, lui fermava l'azione. Fermava l'azione e mi diceva come mai non risolvete questo problema. E allora ogni tanto qualcuna, qualche mia compagna alzava la mano e diceva io non dico niente magari a Maurizia perché magari domani potrebbe dire qualcosa a me e quindi è meglio silenziare. Ecco, a livello sportivo così come a livello aziendale, l'omertà è una delle più grandi malattie che possono costruire e cose allucinanti. Questo straordinario allenatore che è stato Giulio Velasco ci ha dato alcuni strumenti per capire che dobbiamo risolvere ogni taglio perché era una responsabilità. Se la schiacciatrice sbagliava il colpo non era solo colpa della schiacciatrice, era colpa anche della palleggiatrice ed era colpa anche delle persone che erano in panchina perché tutte insieme eravamo un team. Quando abbiamo iniziato a capire il valore davvero di un team allora sono arrivati i risultati. E allora io faccio una grande distinzione tra essere un gruppo ed essere un team. Un gruppo era quello che eravamo noi, un insieme di persone che faceva il loro lavoro, i miei 400 palleggi, le mie difese, le mie battute, tutte con grande efficacia e con grande professionalità. Ma non bastava. Il gruppo è un insieme di persone che segue una guida e fa il suo percorso al singolare. Il team invece è lo stesso insieme di persone. Ma tutto quel corso di palleggi, di passione, lo condivide. Perché le grandi squadre non sono grandi famiglie. Le grandi aziende non devono essere necessariamente grandi famiglie. Non dobbiamo volerci tutti. Io dico sempre che durante la mia esperienza di giocatrice ho ricevuto anche una scarpata in testa da una compagna durante una partita. Perché? Perché avevo fatto un palleggio talmente schifoso, talmente brutto che questa mia compagna si arrabbiò talmente tanto che si abbassò dopo l'attacco e si sfilò la scarpa e me lo tirò proprio direttamente nel volto. Ora io riuscì a non prenderlo, però ecco l'intento era proprio di tirarmi proprio una scarpata in faccia. E sottolineo sempre che noi pallavoristi non siamo delle principesse. Quindi le scarpe erano dal 41 in su. Quindi non eravamo delle cenerentole. Non è stato mai un esempio straordinario quello che è successo, no? Di una giocatrice che prende e tira una scarpa alla sua compagna. Però è stato sicuramente un momento di grande crescita perché il valore del feedback è fondamentale. Dopo quella situazione non straordinaria, tra l'altro vista in tutta Italia, perché comunque eravamo in diretta in televisione, questo match è stato visto proprio in diretta televisiva. Noi ci siamo incontrate nello spogliatoio e abbiamo parlato in maniera molto forte, molto viva, ma per la prima volta ci siamo conosciute perché fino a quando non proviamo a fare il passo, fino a quando non chiediamo, fino a quando non osiamo, non avremo mai un risultato. E quindi da lì siamo cambiate. Abbiamo iniziato a dare valore proprio al feedback, che può essere positivo, ma anche negativo. E allora il feedback negativo è fondamentale all'interno delle aziende. Perché? Perché dà la possibilità di costruire se è condiviso e se è compreso in maniera costruttiva. Noi abbiamo fatto questo passaggio. E allora tutte le volte che incontravamo poi le squadre forti, quelle statunitense, quelle cinesi che vi ho detto prima, ma soprattutto le cubane, perché le cubane quando giocavano contro noi, contro la nazionale italiana, arrivavano in campo con la gomma da masticare. E quindi era un esempio straordinario di come non ci temessero per nessuno una ragione al mondo. E quindi noi abbiamo iniziato a vincere. E oggi devo dire che le cubane quando incontrano l'Italia non portano più la big bubble nella borsa, perché sanno che di fronte a loro hanno una nazionale forte, ma non solo forte tecnicamente, forte mentalmente. Perché le squadre vincenti non nascono mai per caso. Le squadre vincenti nascono per volontà, per fiducia, per condivisione e per grande valore per quello che è il progetto che sposano e per la maglia che indossano. Dove non conta più il nome cacciatori, ma conta il nome Italia. Questo per quanto riguarda il mio mondo. Anche se sottolinea che la pallavolo e lo sport è un simulatore di lusso della vita reale, che però dà un sacco di sport skill e un sacco di strumenti per affrontare tantissime... Io ho riporto nella mia quotidianità, madre, come noi, è molto difficile perché io lavoro molto con le aziende e quindi vedo dei grandissimi messi logici tra un team, una squadra che sia di pallavolo, che sia di basket e un'azienda. Perché è fatta di persone e quindi quando si dà valore alle persone, allora le squadre crescono. Quando si toglie il valore delle persone, quando non le si ascolta, attenzione, c'è grande distinzione tra il sentire e l'ascoltare. Quando io sento una persona, la mia percezione entra ed esce velocemente. Quando io l'ascolto, allora lì sono presente. Quindi il valore delle parole, il valore delle persone che fanno parte del nostro team e il saper delegare, il saper far crescere anche le persone. Io ho avuto tantissime giocatrici che erano più adulte, più esperte di me, che spesso e volentieri non mi hanno mai aiutato in un percorso di crescita. Io ho fatto tesoro anche di questa esperienza perché ho sempre pensato che quando avrei avuto quell'esperienza avrei cercato in tutti i modi di saperla trasmettere a chi arrivava, alle giovani atlete che entravano in campo, alle persone che erano in panchina che magari non venivano mai utilizzate ma valevano tanto quanto le titolari. Ecco, questo è stato il mio percorso, un percorso straordinario di grandi vittorie ma anche di cocenti sconfitte perché all'apice della mia carriera io ho avuto anche un allenatore che mi ha tolto la fascia da capitana, che non ha creduto più in me, che mi ha detto che praticamente il mio ruolo doveva essere differente e quindi mi ha dato dei compiti diversi. Spesso e volentieri io avevo il compito di pulire il palazzetto e non palleggiavo più e non mi allenavo più con la mia squadra e lì ho capito che anche le situazioni di grandi difficoltà devono essere cavalcate. Avevo 27 anni, ero molto giovane, lui mi disse che ormai era la fine della mia carriera quindi insomma non mi aiutò neanche tanto dal punto di vista diciamo motivazionale ma io non ho mai mollato, sempre per quel concetto, quel concetto dell'essere un vero vincente e cioè di trovare equilibrio nei momenti straordinari ma anche quando le cose non vanno bene e da lì ho preso proprio un'opportunità in questo cambiamento di andare a giocare all'estero e di assumirmi un'altra responsabilità, quella di essere una straniera in un campionato che non era quello italiano, che magari poteva proteggermi di più e sono andata a giocare in Spagna in un club che non aveva vinto tanto ma con quel club io sono riuscita a vincere lo Scudetto, una Coppa dell'Arena e anche una Champions League. Quindi da quel cambiamento mi è nata un'opportunità incredibile. Quindi il consiglio che io do sempre proprio a cuore aperto è di pensare sempre in grande e di non porre mai limiti, guardare avanti, guardare oltre ma pensare che non siamo noi, siamo insieme. Questo è un valore aggiunto delle aziende che sono performanti. Chi non ha questo atteggiamento secondo me rimane sempre un passo indietro rispetto agli altri. Eccoci, grazie per aver fatto un escursus lunghissimo della tua vita ma anche di quello che poi volevamo un po' trattare, cioè che erano i gruppi di lavoro, i team, i ruoli delle persone, che cosa uno deve valorizzare di se stesso e anche degli altri. Noi siamo un gruppo di cooperativisti, ci si, cooperative, tutto l'amore e l'affetto per la cooperazione è nel nostro lavoro, cooperazione di diverso livello. Però la domanda che volevo farti, ci occupiamo soprattutto di genere, di valorizzare, di capire come siamo, di capire se viene rispettato il genere oppure come i gruppi di lavoro sono misciati tra maschi e femmine, tutti maschi e tutti femmine, come il pensiero di ognuno magari è diverso. Tu hai parlato dell'allenatore, no? Allora, le squadre di pallavolo femminili hanno sempre l'allenatore maschile, no? O perlomeno per la maggior parte. Tu adesso ti occupi di coaching. Ti chiedo, nei gruppi che tu incontri, i gruppi misti, i gruppi in cui il leader è un maschio, i gruppi in cui il leader è una donna, tu trovi delle differenze oppure trovi dei modi di gestire i gruppi, di coinvolgere, di fare valorizzare le persone che ti circondano diversi oppure nello stesso modo. Io vedo tantissime realtà e ho anche la concezione che il mondo femminile per certi aspetti è tanto diverso da quello maschile, ma se lavorato bene è molto complementare. Noi donne abbiamo una sensibilità pazzesca e su questo non ci piove. Abbiamo il problema forse che siamo troppo perfezioniste, no? E quindi questo ci frena, perché io credo che la perfezione non esista, quindi dobbiamo assolutamente togliere questa concezione e lavorare sulla nostra sensibilità e anche sul valore di quanto siamo empatiche, perché le donne non è vero che non fanno squadra. Forse ci mettiamo più tempo, ma quando diventiamo squadra siamo molto più coese e molto più unite rispetto a un gruppo maschile. Gli uomini invece hanno più praticità, sono più concreti, magari non colgono dei dettagli che la sensibilità femminile invece ha. E quindi a mio avviso è importante riuscire a trovare il buono del mondo maschile con quello del mondo femminile. Io ho avuto persone che davvero hanno lavorato con dei leader che pensavano di essere leader, uomini o donne, ma che realmente non lo erano, perché non comunicavano, non trasmettevano. E allora i gruppi si spegnevano, i team si spegnevano perché non avevano esempi. Allora quando noi prendiamo in mano un gruppo, un team, abbiamo il dovere di farlo crescere, abbiamo il dovere di dargli gli strumenti, abbiamo il dovere di curarlo e non possiamo pretendere che cresca così dal giorno alla notte se non siamo presenti con la nostra volontà, con il nostro esempio, a prescindere dal fatto di essere uomini o donne. L'altra cosa, tu parlavi anche, che poi ti hanno tolto anche la faccia da capitano, poi ti sei rivista, poi quanto il rispetto del cambio generazionale. Io vedo che molto anche nelle grosse industrie, perché c'è sempre il leader che continua a essere sempre quello. Quanto invece un buon leader forse dovrebbe anche saper costruire il suo futuro e riuscire a dare spazio anche agli altri in crescita prima che siano vecchi, per cui che prendano in eredità qualcosa che è già... Questa è una bellissima domanda, anche perché il leader che pensa di essere sempre leader non è un vero leader, nel senso che il vero leader è colui che crea e ha proprio come priorità quello di avere persone a fianco a lui o a fianco a lei che crescano grazie agli strumenti che lui dà o lei dà a loro. Io ho avuto... Io dico sempre che la vita è fatta di cicli che devono essere aperti ma bisogna anche saperli chiudere. Io a una certa età ho capito che è arrivato il tempo per far arrivare e far crescere le nuove giocatrici e quindi ho fatto di tutto per dare spunti, per dare tutti gli strumenti perché queste atlete potessero crescere e ho avuto anche grandi coach che hanno allenato ottime giocatrici che avevano una forte leadership, ma hanno allenato anche giovani atleti che magari dovevano entrare in campo. Quindi questa capacità di saper delegare, quando non dai responsabilità non potrai mai far crescere le persone. Allora io dico ai leader che da anni sono stati leader il non avere chiaro il fatto che debbano costruire un team di persone giovani e comunque che hanno voglia di dargli gli strumenti per essere ancora più forti perché più persone ci sono all'interno delle aziende, ci possono essere tantissimi leader e quindi non è detto che in un'azienda ci debba essere un leader. Ci possono essere tante persone che con il loro esempio sono esempi per altre, quindi costruire tutto insieme e dare un valore aggiunto all'azienda così come l'è stato per noi un nazionale. All'interno della nostra nazionale non c'era un solo leader che era il capitano, c'erano anche altre tipologie di leadership, c'erano persone ad esempio che parlavano pochissimo, ma i loro silenzi valevano molto di più di mille parole e i loro silenzi nascevano dall'esempio, dal fatto di essere sempre performanti, dal fatto comunque di non tirarsi mai indietro, di prendere responsabilità. Questa è una grande leadership. Maurizia, io invece, anzitutto lasciarmi spendere una parola perché la metafora sportiva è veramente da più punti di vista una metafora che sta benissimo dentro il mondo della cooperazione, no? Che in quanto tale non è mai il mondo di un singolo, ma è sempre il lavoro collettivo e la squadra è esattamente la metafora che oggi con questa diretta cerchiamo un po' di mettere a terra. E io quindi da questo punto di vista mi domandavo, visto che la tua carriera nasce da giovanissima, con subito diciamo una responsabilità forte e chiara che ti viene affidata. E anche noi spesso ci troviamo un po' a dire ma abbiamo bisogno di stimolare il ricambio generazionale, di stimolare l'ingresso di nuove leve. E qui nella quotidianità, nel day by day spesso accade che il nuovo arrivato si trova in una, come dire, in una situazione già molto consolidata dove il presidente magari storico che ha fatto la storia della cooperativa in qualche modo rappresenta, certo, un elemento di successo ma anche in quel momento un limite, uno stimolo diciamo alla possibilità di partecipare di queste nuove leve. Quindi ti chiedo, ma c'è un modo, come dire, per riuscire a stimolare le nuove leve a dare un contributo più proattivo? Perché noi di questo anche abbiamo bisogno, cioè di fare in modo che la cooperazione sia accogliente rispetto all'ingresso di nuove persone, perché anche noi abbiamo bisogno di rigenerare il nostro mondo, di cambiarlo, di innovarlo. Quindi come secondo te possiamo farlo? Ma ritorno al concetto che è tutto allenabile. Se non l'avete fatto prima o se l'avete fatto poco, vi consiglio vivamente di attivarvi tanto, perché anche dal punto di vista proprio di soddisfazione personale è qualcosa di straordinario. Far sentire l'ultima persona che entra in azienda come la persona più importante è un qualcosa che dà valore. Io lo dico perché spesso e volentieri quando noi entravamo in campo eravamo sempre le titolari, le giocatrici che entravano e soluzionavano una partita e spesso c'erano giocatrici che arrivavano per ultime. Vuoi perché erano i più giovani? Vuoi perché avevano meno esperienza? Però io ricordo sempre che ognuna di noi, noi diciamo veterane, aveva sempre un occhio di riguardo e un'attenzione perché era possibile che una delle giocatrici titolari avesse avuto una problematica, poteva stare tranquilla perché dietro aveva un team. Quindi il consiglio che io do a voi, iniziate tutti a coinvolgere le persone, ad ascoltare, a condividere feedback, ascoltare anche i loro feedback perché benché siano magari gli ultimi arrivati, possono essere comunque un valore aggiunto e quindi non è detto che sono arrivati per ultimi quindi devono fare un percorso prima di poter parlare. Perché questo è un modo di concepire l'azienda che forse vedevamo negli anni 80. Oggi non c'è più questa concezione verticale, oggi si lavora proprio in orizzontale, le persone hanno valore, ma tutte le persone, non le persone che contano perché sono da più tempo in azienda. Le persone che fanno parte di quella maglia, che indossano quella maglia e quindi è compito vostro, è responsabilità vostra, perché più responsabilità darete a loro, più loro si sentiranno in dovere di non deludere mai chi ha scelto loro e quindi di fare un gioco di squadra davvero più concreto, più produttivo, più vero e realistico. Senti Maurizio, tornando ancora al tema della partita. Chiaramente la pandemia ha generato tutta una serie di difficoltà che anche la cooperazione si è trovata a dover affrontare, no? E quindi un po' come accade alle squadre quando a un certo punto sei sotto, no? Sei sotto e devi riuscire a stimolare una strategia, a mettere in campo una strategia che ti consenta di ribaltare il risultato. Ecco, quali sono le leve che consentono di fare questo processo? Tu che l'hai sperimentato, c'è una modalità che consente di cambiare le sorti di una partita magari il cui esito è già annunciato? La mentalità vincente. La mentalità vincente è la mentalità delle persone che sanno che ogni allenamento buttato via, come ho detto prima, è un allenamento perso perché non ti allontana dall'obiettivo. Ognuno di noi in pandemia si è sentito perso, ognuno di noi ha perso i punti di riferimento a prescindere dai ruoli, a prescindere dalle persone, a prescindere dalle tipologie, a partire dai ragazzi che hanno dovuto lavorare in dad, dai genitori, dalle persone che hanno perso lavoro, dalle persone che nel giro di pochi giorni hanno dovuto costruire un team a distanza. Ma ho sempre detto che il distanziamento sociale non implica prendere le distanze delle persone. E allora, quello che avviene all'interno di una squadra che è sotto 2-0 è la consapevolezza che fino a quando l'arbitro non fischia, la partita non è finita. E quindi io con tutti gli strumenti che ho cerco comunque di creare un clima che sia costruttivo, realistico e positivo. Ora, questo non significa che bisogna raccontare favole o vedere che tutto è meraviglioso, no? Però essere realistici e capire che tutti noi siamo stati in questa situazione. Però ci sono persone che hanno fatto quello switch e hanno capito che da quella situazione bisognava uscire e altre persone che sono rimaste ancora ferme, no? A dire siamo sotto 2-0, è impossibile, aspettiamo solo che fischi questo arbitro e lasciamo che la partita vada così senza schiacciare, senza battere, senza palleggiare. Ecco, quello è il nostro ruolo, no? Questo è il nostro compito. Quando si parla di leadership, io intendo questo, avere la capacità nei momenti di difficoltà di far capire che noi ci siamo in momenti difficili e cavalchiamo quest'onda anomala, no? Perché ancora non abbiamo certezze, ma noi abbiamo la certezza che siamo un team, che siamo squadra e se abbiamo bisogno anche la capacità di alzare la mano e chiedere aiuto, attenzione, questo è fondamentale. Io da capitana, ad esempio come di giocatrice, straordinaria e tutto, quando mi sentivo in difficoltà e essendo una leader, essendo comunque davvero una giocatrice che poteva essere il simbolo, non ho mai avuto la vergogna di chiedere aiuto a una collega, a una compagna, a un coach, a un capo, alle persone che erano a fianco a me, perché davo valore alla squadra, perché sapevo che condividendo certe mie situazioni avrei potuto trovare una soluzione assieme. Quindi anche questo valore non va mai sottovalutato, perché ho visto tante aziende che per timore di far vedere, di non essere all'altezza di gestire questa situazione così critica, si sono ulteriormente chiuse e ovviamente è un danno non solo a livello psicologico di loro, ma anche poi dell'azienda, perché perde punti di riferimento e noi non possiamo lasciare dietro nessuno se siamo un team. Se siamo un gruppo purtroppo ognuno fa il suo e da battitore libero chi riesce ad andare avanti va e gli altri li lasciamo dietro, ma secondo me non è il modo di lavorare di oggi, nel 2021. Maurizia, volevo un po' collegarmi al… tu hai scritto il libro Senza Rette, che parla un po' di te, del tuo ricominciare, reinventarti e anche un po' forse rischiare, cioè quando non è tutto chiaro. E mi collego anche alla domanda di prima dell'Emiliana, che in questo periodo di pandemia in effetti abbiamo dovuto modificare le nostre cose, abbiamo dovuto riscoprire cose nuove, abbiamo dovuto ripensarci, come dici tu, dandoci degli obiettivi, però è anche vero che alle volte ti dai l'obiettivo, però rimangono delle parti non sicure. E credo che forse alle volte i gruppi rischiano perché hanno dei leader o anche il gruppo che aspetta di avere il quadro perfetto per potersi muovere, per poter giocare. Mentre nella tua percezione è di rischio, no? Comunque nelle scelte, nel gioco, nella vita, come la vedi questa? Cioè questo di metterti l'obiettivo, però sapere anche supportare chi e anche dire agli altri che c'è un margine in cui forse non è tutto predestinato o predefinito. Assolutamente. Io quando ho smesso di giocare, io l'ho scritto nel libro, io ho smesso di giocare a pallavolo molto presto perché avevo poco più di 30 anni ed ero ben consapevole che mi sarei trovata di fronte a un mondo completamente diverso dal mio. Perché il mondo dello sport è straordinario, però era già tutto pronto, io dovevo fare un viaggio, era già tutto organizzato, io dovevo solo e esclusivamente pensare a giocare, no? E quando ho smesso io sapevo già, mi ero già preparato. Questo ecco, quando io dico la capacità di un leader, no? Di saper anticipare. Perché quando io ho deciso di smettere, io non l'ho deciso dal giorno alla notte, io l'ho deciso un anno prima e già in quell'anno mi immaginavo cosa sarebbe stata la mia vita, no? Quindi una vita completamente diversa, una vita dove dovevo mettermi ancora più in gioco, magari da sola perché non avevo più il mio team, non avevo più la mia squadra, però ho avuto il coraggio e ho avuto la consapevolezza che sarei caduta ancora più volte, no? Perché una vita senza cadute è una vita non vissuta, io non ho ancora visto una persona che non ha mai sbagliato, non si è mai trovato in un momento di difficoltà. quello su cui io ho fatto leva era stato sicuramente il coraggio di sapere affrontare ogni problematica con un'ottica di costruzione e anche aspettandomi dei fallimenti. Il fallimento è a mio avviso una parte, no? Del percorso e quindi io quando sono entrata nel mondo della comunicazione dove ho iniziato a studiare, ho iniziato a prepararmi con mille dubbi perché io arrivavo dal mondo di sport e quando mi sono trovata di fronte a platei di 300-500 persone dentro di me mi facevo mille domande, no? Dico cosa racconterò io del mio sport? Cosa può essere utile, no? Magari non interessa nessuno. E invece poi ho capito che invece c'erano tanti messi logici, no? Perché il DNA di un'azienda è fatto dal DNA di ogni singola persona, così come l'avevo vissuto io nei miei team e quindi ho portato il mio mondo all'interno delle aziende con grande coraggio, con grande anche timore, no? Perché ovviamente era tutto nuovo per me. Però se ci fermiamo a tutto quello che potrebbe non andare bene, allora facciamo dei passaggi molto più lenti, no? E quindi essere realistici e sapere che ci aspetta sicuramente e ci aspetteranno anni ancora complicati, non semplici. Però noi siamo protagonisti dei nostri giorni, noi non dobbiamo mai permettere a nessuno di dire nei momenti di difficoltà Enrichetta o Emiliana o Maurizia si sono tirate indietro. No, la vita è una e dobbiamo essere noi gli artefici del nostro percorso. Giusto o sbagliato che sia? Ecco, questo è chiaro. Però noi dobbiamo prenderci la nostra responsabilità ed essere un esempio, perché dando esempio creiamo persone che poi daranno ulteriori esempi agli altri e quindi questa secondo me è la filosofia giusta che va applicata all'interno delle aziende che devono seguire dei progetti che forse sono a lunghissimo termine, progetti che magari non vanno, non hanno successo, ma anche progetti che invece portano grandi risultati perché siamo, a volte io dico sempre e l'ho detto anche prima, dobbiamo pensare in grande perché è così, perché le vittorie aiutano le vittorie e le sconfitte continuano ad allenare sconfitte, ma tutto è allenabile, tutto, anche la capacità di saper ribaltare situazioni terrificanti in situazioni invece che possono essere costruttive e comunque importanti. Maurizia, innanzitutto voglio tranquillizzarti che hai un sacco di cose da dire, quindi nel caso avessi dei dubbi, assolutamente perché sono certa che anche la platea, anzi dai feedback che abbiamo, la platea sta molto apprezzando questo incontro. Torno un attimo al ragionamento che ci stavi proponendo adesso e ci vedo tanto, come dire, anche un po' del modo di pensare tipico del genere, cioè siamo un po' noi donne che spesso, come dire, limitiamo le nostre scelte, il nostro coraggio progettuale perché ci vediamo, cioè cominciamo a mettere in fila tutte, questo è un errore che un po' anche ci viene riconosciuto anche nel mondo dell'impresa, mettiamo lì tutta una serie di cose che sicuramente avremo difficoltà a gestire e questo rappresenta il limite vero e in qualche modo l'ostacolo che ci impedisce di fare quella scelta coraggiosa della quale stavi parlando. Allora mi chiedevo mentre parlavi se invece c'era un modo, c'è un modo per, come dire, fare il ragionamento dei piccoli passi, no? Come dire, di porsi degli obiettivi micro per riuscire a raggiungere quello lungo. Questo è un modo per superare le difficoltà contingenti e puntare all'obiettivo grosso perché noi qua lavoriamo per fare in modo che le donne domani possano rappresentare punto di riferimento nell'ambito della cooperazione, cioè perché questo, noi di questo stiamo, questo è l'obiettivo, cioè dare centralità al ruolo e al valore della donna perché pensiamo che questo rappresenti un valore aggiunto, non in antitesi a quello dell'uomini, ma, come dici tu, in senso di squadra, di collaborazione, perché siamo consapevoli di avere un portato interessante che possa essere un contributo. Quindi come facciamo, Maurizia, come facciamo a non fermarci? Semplicemente pensando quanto straordinari siamo, quanto meravigliose siamo nella nostra sensibilità, nelle nostre fragilità, nei nostri dubbi, nel nostro essere madri, figlie, sorelle, nel nostro essere così resilienti è sempre un punto di riferimento perché questo noi ce lo dimentichiamo sempre. Noi partiamo dal presupposto che dobbiamo fare sempre di più perché siamo donne e dobbiamo dimostrare. No, io credo che non c'è da dimostrare nulla se non quanto siamo davvero grandi e ve lo dico perché io sono una donna che è diventata madre a 40 anni, due bambini, non ho mai avuto la babysitter, ho sempre gestito tutto da solo, ho avuto momenti di grandissimo, diciamo, sconforto, no? Perché per me anche riuscire a lavorare ai ritmi che lavoro io e avere due bambini piccoli con un marito che devo dire è straordinario perché mi aiuta veramente intanto, però io mi sento sempre nel dovere di proteggere questa mia famiglia, no? Ed è una caratteristica tipica della donna, il fatto proprio di proteggere. Quindi non dimentichiamoci mai di quanto valore abbiamo, di quante, non saprei trovare il termine, ma di quante skill possiamo trasmettere e di quanta forza abbiamo. Io ho avuto dei momenti davvero di grande disagio perché tornavo da un impegno di lavoro e in autostrada al telefono con i miei figli cercavo di risolvere l'analisi logica dei bambini, cercavo di far capire ecco che potevano il giorno dopo fare un esame straordinario perché erano in gamba, perché comunque avevano studiato, quindi motivatrici. Siamo veramente tanto grandi, tanto in gamba, tanto straordinarie. Il problema è che non lo vediamo, non tutte lo vedono e questo è un grande errore. Noi donne abbiamo quella sensibilità che a volte è anche troppa perché riusciamo a vedere delle cose che magari non ci sono, però quel cuore è un cuore speciale, no? Che può fare la differenza nelle organizzazioni, nelle cooperative, in ogni ambito. Quindi guardiamo il bello e guardiamo il tanto che abbiamo, guardiamo i sacrifici che abbiamo fatto, guardiamo anche il concetto appunto anche della maternità, di saper riuscire a essere così veloci, agili. Adesso si parla tanto di lavorare in maniera agile, ma le donne lavorano così da sempre. Nessuna donna non lavora così, quindi perché nascondere questa parte qui e non invece dare valore a tutte queste cose straordinarie di cui siamo in grado di fare. Anche di piangere, magari rinchiuse in una macchina perché siamo anche donne che piangono. Io sono una donna, ad esempio, che quando mi sento particolarmente giù piango, no? E penso, va bene così, ma piango perché, non perché sono, non ce la faccio o perché sono debole o perché sono una perdente, perché ho emozioni, le nostre emozioni che sono spesso puntate, no? Perché le donne sono tanto di cuore e tanto hanno quella sensibilità e a volte dovrebbero togliere. No, noi siamo belle per quello che siamo e siamo straordinarie per quello che portiamo in ogni ambito. Per questo io dico, non guardate quello che potremo ancora raggiungere, perché raggiungiamo ancora di più. Guardate quello di straordinario abbiamo conquistato e facciamo quotidianamente da sempre. Siamo un grande esempio, però portiamolo in maniera costruttiva. Cerchiamo di essere veramente quello che siamo e non abbiamo paura di vedere quello che magari a volte non è così straordinario come potrebbe essere. Volevo dirti su questo, riprendendo un po' la scelta della famiglia, dei figli e anche il fatto che noi crediamo come cooperatori nel lavoro che facciamo, crediamo nel ruolo delle donne e vogliamo che sia portato avanti con questo pensiero sia al maschile che al femminile. Alle volte però mi sembra di incontrare delle donne che non sono molto convinta che sempre scelgano di lasciare il lavoro, di abbassarsi le ore quando rientrano al lavoro dopo la maternità. Allora, anche lì dovrebbe essere il coraggio di scegliere, il coraggio assieme al compagno di decidere veramente insieme chi fa cosa, chi rientra e il valore anche del lavoro della donna perché alle volte è sempre, fa un passo indietro e ho la sensazione che invece il coraggio sia il coraggio di scelta vera, di scelta assieme al compagno, non di così va bene e così facciamo. Non so se anche nei tuoi incontri, tu stessa hai scelto e l'hai detto più volte, però si è incontrato anche persone che invece io le ho avuto questa impressione e un po' questo mi spaventa, mi sta bene la scelta se viene fatta come scelta. Io devo essere sincera, lavoro tantissimo con le donne, con donne che lavorano e con donne che hanno figli, hanno tanti figli e che spesso si sentono in colpa e che vivono questa maternità come quasi una colpa perché può essere un motivo ecco di poter recare un danno all'azienda. Io invece penso sempre che è un valore aggiunto, sia che io sia madre sia che io invece decida di non essere madre, però mi piace molto confrontarmi con le donne perché trovo tanto di me in tutto quello che mi viene raccontato e allora trovo donne che magari rientrano al lavoro subito e si sentono in colpa oppure donne invece che si concentrano talmente tanto sul lavoro da perdere completamente la connessione con la propria famiglia. Ecco, il lavorare con loro, il fare capire che tutto questo nostro mondo di grandissima organizzazione, perché credo che davvero siamo super multitasking perché il nostro lavoro non è soltanto in azienda ma è poi quando torniamo a casa quindi il saper organizzare la famiglia, il saper dare punto di riferimento ai figli il prenderci le nostre responsabilità è un grandissimo lavoro e quindi le scelte vanno fatte col coraggio che dicevi tu Enricchetta col grande coraggio e con il togliere assolutamente il timore di non osare osiamo di più, siamo più protagonisti, non abbiamo paura ecco di fare le nostre scelte perché le nostre scelte giuste o sbagliate che siano appartengono al nostro percorso quindi a me piace molto parlare con gruppi di donne perché ritrovo me stessa e le stesse domande che mi sono posta io le ritrovo nelle domande di tante persone che fanno parte dei programmi di lavoro con i quali io faccio i miei percorsi e devo dire che le donne stanno giorno dopo giorno acquistando fiducia in loro stesse stanno acquistando coraggio ma non devono mai tirarsi indietro, mai e non devono mai pentennare perché hanno dei valori che forse loro non conoscono che sono straordinari Giuliana, Maurizia senti, Giuliana ci fa, tra altre cose la mia collega Lombarda ci fa questa domanda dalla pagina Facebook e dice in azienda l'omertà è un veleno a volte si teme di parlare chiaro per paura di entrare in conflitto con l'altro e quindi chiede come si può accettare di dire anche cose spiacevoli ma che potrebbero però aiutare la persona a crescere quindi come si fa a dare in altre parole un feedback negativo? Con il coraggio, con i modi giusti e con la consapevolezza che un feedback negativo vale molto di più di un feedback positivo almeno questa è la mia filosofia cioè se io do valore a un feedback negativo e capisco dove sto sbagliando io sto aiutando la mia collega bisogna certamente trovare i modi per farlo perché alzando la voce, facendo la persona che si impone o mette pugni ecco questo non è il modo di costruire una squadra ma se io vedo il solito concetto che dicevo prima della palla che cade tra due persone se io sto zitta, perdo io e perde la mia compagna perdiamo tutti e due, perde tutta la squadra allora forse non è meglio fermare quella palla e dire guarda, quella palla quando arriva in quella direzione prendila tu che in quel momento magari eri più concentrata in un'altra cosa prendila tu quella responsabilità perché magari insieme riusciamo a portare a casa un valore maggiore ecco la comunicazione efficace non quella gridata, urlata che non serve a nulla ecco ma quella costruttiva perché io preferisco avere un feedback negativo che però mi aiuta a migliorarmi che è un meraviglioso complimento, brava, meravigliosa, fantastica ma che poi magari non è neanche reale ecco quindi quando si dice che l'omertà è davvero una delle problematiche più grosse a livello aziendale così come lo è per le squadre ma a livello aziendale io la ritrovo tanto perché lavoro tantissimo con le aziende io dico cercate di togliere l'omertà perché l'omertà oggi può essere un problema che dà un risultato minimo ma alla lunga diventa davvero un qualcosa di forte quindi alleniamo proprio a comunicare e a togliere e a dare feedback feedback che costruiscano e anche essere capaci di accettarli perché non è soltanto il coraggio di darli è anche la capacità di saperli riceverli e di vederli come costruttivi Maurizia invece ti faccio la domanda di Paola Benini che è la presidente di una cooperativa flulana ti chiede quanto è importante in un team analizzare le cadute e quando come un leader deve, può mettere, condividere i propri dubbi e i propri errori un leader che sa ammettere i propri errori è straordinario perché solitamente abbiamo questa concezione che il leader è infallibile e invece non lo è nel senso il leader è una persona che ha come priorità almeno per quanto mi riguarda il concetto di condividere e quindi quando le sconfitte arrivano nella pallavolo c'è sempre il momento nello spogliatoio dove viene analizzato ogni aspetto, ogni dettaglio e ogni singolo dettaglio fa poi la differenza quindi negli spogliatoi dopo una sconfitta c'è sicuramente uno stato d'animo pessimo ma c'è sempre quella consapevolezza che da quell'errore il giorno dopo ci può essere la possibilità allenandola e facendola vedere facendola emergere di superarla e quando invece c'è il silenzio quando il leader lo nasconde quando il leader invece continua a sentirsi infallibile e che gli errori non sono i suoi ma sono quelli del team che l'azienda non va avanti quindi io considero i leader sempre persone che si mettono a servizio e hanno proprio questa volontà di capire e dare ascolto a chi hanno a fianco perché il leader solitario è vero può essere straordinario ma ha sempre bisogno di persone a fianco e quando arrivano le sconfitte se non ha persone con le quali condivide con le quali ha fiducia con le quali ha un rapporto forte e stretto le soluzioni non possono arrivare quindi io ritorno alla considerazione che bisogna lavorare come squadra dando fiducia che non significa giustificare le persone quando io do una fiducia ad una mia collega è perché gli do la responsabilità è perché so che lei questa cosa la farà bene poi è logico che se la cosa non la fa bene io ho il dovere di confrontarmi ma se tutto questo rimane appannato in silenzio e si va avanti così i risultati non potranno mai arrivare mai arrivare e per quanto riguarda invece il concetto prettamente femminile alleniamoci a non concentrarci magari in dettagli stupidi perché anche questa è una caratteristica tipica di delle donne che non ci dimentichiamo mai di niente nel lontano 2002 mi ricordo che quella palla me l'hai data perché ma che magari non è assolutamente vera ecco togliamo queste cose che sono le cose più superficiali che non ci appartengono abbiamo fatto tanti sacrifici e poi ci perdiamo in un bicchier d'acqua ecco facciamo vedere che siamo donne che sappiamo fare squadra facciamo stare zitti a chi dice che le donne non sanno fare squadra non è vero ci mettiamo più tempo perché forse siamo molto più coi piedi per terra e dobbiamo essere sicure a chi dare la fiducia però proviamo ad allenare il fatto di dare fiducia che ripeto non significa giustificare e dare ok e buttarsi così nel vuoto ho scelto te ti do fiducia ma nel costruire rapporti i rapporti si costruiscono giorno dopo giorno con cadute con momenti magari di incomprensione ma è normale io lo dico sempre non dobbiamo essere delle famiglie non dobbiamo volerci tutti bene dobbiamo però capire che l'obiettivo dell'azienda è quello e che quell'obiettivo appartiene a me quanto a te quanto a lei nello stesso modo non è che a qualcuno importa di più a qualcuno ha un valore maggiore a qualcuno non ha nessun valore perché se no non si costruisce nulla no 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 vado allora mi sto al punto sto al punto che trattavi per tornare un po' al tema della collaborazione no? cioè spesso la collaborazione la si racconta un po' facendo riferimento ad aspetti etici quindi siamo tutti buoni quindi collaboriamo perché ci vogliamo tutti bene ritieni quindi che questo sia il modo giusto di stimolare la collaborazione oppure come dire che sia più utile farlo stimolando leve che sono il riconoscimento del valore dell'altro del valore delle capacità e del ruolo dell'altro quindi qual è il modo giusto di stimolare una collaborazione che sia fattiva cioè che che sia anche il presupposto del riconoscimento del ruolo e del valore dell'altro allora io vi prendo questo esempio che racconta tanto io un anno a Bergamo avevo una giocatrice cinese e lei era una delle giocatrici più forti che c'erano lei aveva il ruolo del libero a fine di questa giornata conoscete tutti i ruoli è libero palleggiatrice schiacciatrice comunque il libero è quello più semplice perché ha la maglia differente qual è il ruolo del libero è un ruolo molto critico perché a mio avviso deve solo difendere e deve solo ricevere quindi non può mai attaccare non fa mai punto quindi abbastanza a livello psicologico può essere paragonato quasi al portiere che quando vincono sono bravi tutti gli altri quando perdono è colpa del portiere perché ha sbagliato la parata questa giocatrice era una delle giocatrici più performanti della nazionale cinese quando arrivò in Italia entrò in una cultura in un team che era già formato con schemi e strategie completamente diversi dalla sua scuola orientale ora quando arrivò lei non sapeva neanche parlare italiano che povera io mi rendo conto che insomma il cinese non è proprio facilissimo da comprendere e viceversa l'italiano sono due lingue diciamo abbastanza complicate io tutte le volte chiedevo a lei tra l'altro lei veramente era formidabile però le sue palle erano palle che erano troppo morbide o meglio avevano delle parabole che nel nostro gioco rallentavano il ritmo della partita allora il mio compito era quello di far capire a lei che avevo bisogno di una palla tesa allora io cominciai lei si chiamava One cominciai dal primo allenamento a dirgli guarda One ho bisogno di una palla tesa e parlavamo a segnali perché ovviamente io non parlavo cinese e lei non parlava italiano e gli facevo il segnale tesa e lei arrivando poi da una cultura proprio anche forte faceva questo inchino e mi diceva sì mi faceva abbassava la testa e mi metteva le mani così e io finito allenamento pensavo ha capito ha capito cosa gli ho chiesto domani arriverà questa palla cominciavamo l'allenamento successivo del giorno dopo e lei mi rifaceva la palla quella sua quella che aveva sempre fatto in Cina e io rifermavo l'allenamento dicevo One ho bisogno di una palla tesa e lei continuava con questo inchino insomma facendola a breve al centesimo inchino io avevo capito che non riuscivamo ad arrivare da nessuna parte e allora cosa fece andrei un pomeriggio in centro a Bergamo e al tempo non c'erano Google traduttore e tutto e comprai un vocabolario italiano cinese e cercai due parole la prima era una parola proprio tecnica palla tesa ok e la seconda ho bisogno di te perché perché avevo capito che lei arrivava da una cultura proprio aziendale che poi era cultura sportiva dove non le era permesso esprimere la sua opinione dove non le era permesso comunicare e dove quello che veniva dato dall'alto quindi dalla sua cultura doveva essere legge quindi io dicendo ho bisogno di te gli ho dato la possibilità di capire che poteva esprimersi e che poteva essere libera di condividere con me quello che non andava perché magari per lei era difficile dare quella palla io questo non lo sapevo però lei era libera di dirlo ecco perché io dico che l'omertà è un danno incredibile ecco non dico che il giorno dopo arrivò la palla perfetta però c'è stato un cambiamento fortissimo perché lei si è sentita libera di essere se stessa gli chiesi di non farmi più l'inchino perché l'inchino non lo volevo perché non doveva sentirsi in colpa se aveva fatto quell'errore ma doveva sentirsi responsabile di far parte di un team che aveva quell'obiettivo di fare un gioco veloce e dopo un paio di settimane diciamo forse un mesetto lei arrivò a dare una palla perfetta e quindi ad avere nel suo bagaglio proprio personale un'altra tipologia di gioco che l'ha resa ancora più forte di quanto lei non lo fosse quindi perché io dico questo perché spesso e volentieri ci sono dei momenti in cui il silenzio è terrificante e se non facciamo noi il passo avanti e se non ci prendiamo noi le responsabilità e se non partiamo con dei preconcetti io potevo dire eh ma lei arriva da quella scuola lì è abituata così e hanno sempre fatto così è colpa sua io non posso farci niente ecco queste sono le aziende che rimarranno sempre ferme e avranno poi dei competitor che passeranno avanti che le supereranno perché lavoreranno tanto in questo nella comunicazione nel mettersi in gioco e io mi sono messa in gioco in maniera molto naturale perché avevo bisogno di lei e lei questo concetto proprio di sentirsi importante che forse non l'aveva mai sentito in passato gli ha fatto fare quel passo in più per comprendere tutti i feedback e tutti i concetti del nostro team in maniera molto più veloce quindi vi esorto non a comprare un vocabolario italiano-cinese ma a fare questo passo perché tutti noi siamo consapevoli delle persone che ci stanno a fianco dei loro limiti dei loro potenziali delle loro caratteristiche delle loro tipologie a livello proprio di personale e quindi a saperle gestire nel miglior modo assoluto mi collego a questo e anche a due cose che abbiamo detto prima cioè il bisogno che abbiamo di stimolare i nuovi cooperatori a partecipare alla vita della cooperativa anche perché le vite della cooperativa adesso sono lunghe per cui dobbiamo creare i nuovi cooperatori che saranno il futuro coinvolgendoli e collego anche il rispetto dell'altro e di come alle volte volevo chiederti se anche tu l'hai trovato sia nel gioco un po' ma anche nelle aziende che incontri di come lasciare alcuni ruoli cioè dirigenziali o che vuol dire lasciare a qualcuno che ha un suo modello di gestione per cui bisogna forse bisogna fare un passo indietro per mettere che pur avendo lo stesso obiettivo lo farà in un modo un po' suo un po' personalizzato un po' diverso da quello che facciamo noi perché il cambio generazionale forse non so volevo chiederti questo è anche fare un passo un po' indietro essere lì a trasmettere però anche a rispettare la mentalità di chi deve venire dopo di me ma la risposta l'hai già data ed è straordinaria ma volevo capire se tu incontravi anche e se magari suggerivi questo nei tuoi incontri altra solo questo assolutamente sì è un valore aggiunto il dare valore a chi arriva e il saper togliere noi abbiamo sempre lavorato così è è un'arma in più voi avete questo io dico dovere no ma è una responsabilità di far crescere di delegare di dare responsabilità alle persone perché più le persone vengono responsabilizzate più daranno ancora più di quanto immaginano di poter fare e saranno anche libere di coinvolgere e allo stesso tempo essere un esempio per altre persone quindi è tutta una cosa a catena no quando io ho iniziato quando io ho avuto una giocatrice ad esempio che non mi ha mai dato nessun feedback ed ho pensato che quando sarei stata al suo livello avrei fatto l'esatto contrario ho poi dato la possibilità così come tante mie compagne di capire che non ci siamo solo noi ma ci sono anche le persone a fianco a noi e a loro vanno dati tutti gli strumenti e quindi la capacità di farli crescere perché è un valore estremamente innovativo e non farli sentire degli ospiti quindi investire lavorare sulla persona è oggi la priorità delle aziende quindi io vi esorto a fare questo ma conoscendovi perché abbiamo avuto modo anche di incontrarci in alcune prima di questo incontro avete tutte le caratteristiche perfette per fare questo certo non è semplice perché ci vuole tanta pazienza bisogna avere anche le persone che siano ricettive perché poi ci sono anche persone che non hanno nessuna voglia di crescere si accontentano ecco mai accontentarsi i percorsi aziendali sono percorsi talmente particolari stimolanti a volte anche noiosi però sono i percorsi della nostra vita che fanno parte del nostro percorso e continuo a dire che ogni percorso va onorato dall'inizio alla fine quindi lavorare sulle persone così come faccio io ormai quotidianamente far capire quanto è importante comunicare mettersi in gioco non tirarsi indietro avere coraggio avere coraggio di esserci essersi veramente meritata quella maglia è un qualcosa che fa la differenza assoluta io invece Maurizio torno torno un po' alla metafora cooperative e mondo sportivo specie specie quello della pallavolo no noi viviamo in contesti nei quali spesso la base sociale quindi i lavoratori sono per il 94 l'80% o donne e poi alla fine esprimono spesso presidenti e magari anche il vicepresidente uomo un po' come accade non sono espertissima ma nell'ambito della pallavolo ma perché le donne come dire fanno più fatica secondo te ad arrivare la ad arrivare come dire a assumersi una responsabilità importante come quella nel caso delle cooperative di dirigere gruppi di persone anche molto importanti perché noi abbiamo cooperative anche di migliaia di persone che quindi generano importanti fattorati e spesso sono il lavoro delle singole colleghe che produce quel fatturato che però poi viene amministrato e rappresentato anche da figure maschili ma non è che le donne fanno fatica a raggiungere questi ruoli perché sono prontissime e notevolmente già pronte per questi incarichi è che purtroppo c'è ancora tanto da lavorare perché il percorso delle donne lo abbiamo visto tantissimo in questi ultimi mesi anche a livello sportivo abbiamo visto tantissime storie legate alle donne e quindi il percorso di due donne non è mai semplice perché è vero è inutile nascondersi ci sono veramente situazioni che sono quasi paradossali ma non è un fatto legato al discorso che le donne non sono in grado di ricoprire questi ruoli questa è la bugia che ci vogliamo raccontare assolutamente ma è il fatto perché ancora bisogna bisogna accettare che per me è una cosa che non esiste perché secondo me una donna vale e se vale io sono ad esempio contro l'equaterosa nel senso che se io valgo valgo perché sono in gamba non perché sono una donna o un uomo quindi se io ho tutte le caratteristiche per essere una donna che può stare ai vertici ho il sacrosanto diritto di starci e quindi quello che che bisogna fare è avere il coraggio di esserci sempre e parlarne sempre nella pallavoro purtroppo purtroppo c'è una sola grandissima allenatrice che è l'allenatrice della Cina tra l'altro la Cina è una tra le squadre più titolate a livello olimpico che ha vinto di più proprio al mondo statisticamente parlando ed è l'unica donna che noi vediamo alle olimpiadi ed è qualcosa di eclatante no? così come negli staff degli staff delle nazionali femminili quando troviamo parlo staff tecnici quando riusciamo a trovare una donna sembra quasi qualcosa di incredibile e da rabbia da frustrazione da quella frustrazione che avevamo noi quando non dicevamo mai una partita eppure eravamo lì ecco il consiglio è di continuare a parlare di continuare però a dimostrare quanto valiamo di non tirarci indietro perché questa è questa è una battaglia che si sta aprendo e fortunatamente in questi ultimi anni ne stiamo parlando molto molto di più rispetto a prima e di condividerla di condividere di trovare il coraggio di condividere e di non stare in silenzio io sono brava io valgo però davanti c'è un'altra persona perché ci deve stare lei no bisogna parlare di queste cose qua secondo me è giusto perché la meritocrazia è fondamentale noi siamo donne siamo persone che ci mettiamo sempre in gioco e dobbiamo necessariamente avere anche le nostre risposte importanti perché non è più tempo per considerazioni maschiliste o femministe è veramente qualcosa di davvero anche prima del medioevo vero 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 condivido al 100% e credo che sia anche un impegno per noi quello di stimolare perché poi nella cooperativa una testa un voto come diceva Emiliana prima poi chi vota ha il potere di voto ecco rispetto assolutamente all'SPA o altre cose per cui forse dobbiamo anche noi continuare a dirlo la mia domanda quella di prima del coraggio no di scegliere brava ma non soltanto a dirlo a condividerlo e a renderlo sempre vivo e chiaro però attenzione a dare sempre ottimi esempi perché poi è l'esatto contrario siccome sono donna allora devo stare su no questo non è giusto io sono io vado avanti perché valgo e perché dimostro di essere una donna che ha dei valori ha una mentalità e ha e ha una capacità anche di di creare gruppi importanti ecco con i fatti non solo con le parole perché poi è un filo abbastanza sottile no perché a volte sembra quasi che siccome sono donna devo essere lì no non è così noi meritiamo le nostre cose e se le meritiamo abbiamo il dovere sacrosanto di avere ruoli importanti tanto quanto li hanno gli uomini e anche di creare gruppi di valore come dici tu assolutamente crei gruppi che siano credibili assolutamente noi noi questo questo evento è già adesso lo dirà meglio di me sicuramente Federica ma è già l'esempio di come le donne sanno fare squadra perché qua abbiamo messo insieme regioni abbiamo messo insieme test abbiamo già messo insieme progettualità e l'abbiamo fatto per fare una cosa bella grande e che possa essere speriamo di aiuto e come dire possa aprire un po' il ragionamento rispetto a al chiudersi e a fare solo una battaglia di genere che non è la nostra brava questa non è una battaglia bravissima noi facciamo una battaglia per dare un contributo di valori di valori per dare un contributo quindi vai Fede grazie allora io ringrazio tutte perché avete detto delle cose interessantissime in effetti siamo una grande squadra che riunisce due regioni Triuli e Lombardia ed è stato un bellissimo successo un bellissimo lavoro quello che abbiamo messo insieme e ne siamo tutte molto orgogliosi in questo momento in video della squadra siamo solo in tre mentre le altre stanno lavorando nel backstage ma a rotazione ognuna di noi avrà il modo di poter partecipare attivamente ed è questa è un'esperienza veramente bellissima io chiuderei con alcune parole chiave che sono emerse da questo incontro e che mi hanno colpito e che per me sono dei valori importanti la fiducia la forza la protezione il cambiamento la fiducia e la fatica il preservare i propri obiettivi credo che siano degli elementi importanti da ricordare da ricordare per continuare quello che stiamo facendo continuare le nostre attività sia lavorative che nella vita privata Maurizia hai detto una cosa bellissima prima secondo me che è quella di dare valore alle nostre esperienze a quello che facciamo a quello che siamo e alle nostre emozioni purtroppo tante volte come hai detto tu tendiamo a nasconderle ma sono fanno parte di noi noi siamo quello che siamo e possiamo esercitare anche una leadership per quello che siamo senza diventare altro ma dando valore a noi stessi quindi assolutamente grazie mille porto i saluti anche scusate adesso ti lascio la parola di Dusi Marcolin che è la presidente della commissione pari opportunità della regione Friuli Venezia Giulia che ci ha scritto in chat scusa Maurizio grazie di cuore io vi ringrazio davvero tanto perché abbiamo fatto squadra velocemente perché penso veramente in una settimana abbiamo fatto una grandissima squadra io voglio salutare anche tutte le persone donne uomini che ci hanno sentito e un altro un altro saluto speciale a tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo e e dire loro che non dobbiamo tirarci indietro che siamo straordinarie e che se stiamo soffrendo alzare la mano e chiedere aiuto questo secondo me è un passaggio fondamentale perché abbiamo passato un anno incredibile tra pandemia tra rinunce tra situazioni forti a livello proprio emotivo quindi anche questo è un suggerimento che do a voi che vi vedo davvero super in gamba di avere la capacità di saperle ascoltare di dare loro anche l'opportunità di chiedere aiuto se si sentono in difficoltà ok io più di questo non saprei cosa dire però ci tengo tanto alle persone e facciamoci attenzione a tutto quello che facciamo grazie infinita grazie è vero grazie ci prendiamo l'entusiasmo che ci arriva dalla tua presenza perché è una presenza sorridente bella energetica e quindi grazie poi prendiamo la sua alzata esatto facciamo tutti poi e poi prendiamo il libero magari che verrà anche lei qualche volta va bene e poi speriamo di vederci io quello che dico sempre ecco che questa modalità ci ha permesso di stare vicine però magari quando avremo l'opportunità magari di incontrarci ecco di persona ok guarda che noi ti prendiamo in parola eh volentierissimo e ti aspettiamo volentierissimo 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 per parlare del linguaggio che è anche fiducia la felicità sul luogo di lavoro si basa sulla fiducia e quindi vi aspettiamo tutti l'8 luglio grazie ancora e buona serata a tutti ciao 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 Grazie.